Il kit costituisce una risposta immediata ed efficace alle diverse esigenze terapeutiche del lavoro quotidiano in palestra e grazie alla sua struttura modulare permette di realizzare numerosi sussidi, limitando notevolmente la quantità di materiale necessario, il che garantisce una possibilità di intervento professionale anche a domicilio. Il prodotto si avvale di più strumenti che associano creatività e tecnologia mirati all'organizzazione di contesti terapeutici differenziati. Le tavolette contenute nella valigetta rispondono alla caratteristica di modularità. Grazie alla presenza di una serie di fori e l'uso di spinotti calamitati è possibile ottenere diverse soluzioni di utilizzo, collegando alla tavoletta con estrema facilità cerniere, semisfere, sferette portanti. Le tavolette, grazie alla presenza di ulteriori elementi di connessione, sono la base per il montaggio di una serie di sussidi. Sistemi di soppesamento, tavolette oscillanti, archetti graduati, indicatori. Di particolare interesse la presenza dei seguenti nuovi sussidi. Visualizzatori dei movimenti del capo, tronco, bacino e ginocchio, puntatore laser, sistema feedback visivo sonoro, inclinometro.